Siamo con la preside, la professoressa Paola Vignaroli dell'Istituto Comprensivo Garibaldi di Subbiano e Capolona. Da quest'anno la scuola secondaria di primo grado, quindi la scuola media, cambia orario. Sì, ecco, quest'anno all'interno del nostro istituto è stata fatta una grande riflessione, sia a livello di collegio dei docenti che in concertazione anche con le amministrazioni comunali e con il territorio, per cercare di capire se era opportuno o meno e soprattutto se era rispondente alle esigenze delle nostre famiglie il cambiamento dell'orario settimanale della scuola secondaria di primo grado, che era l'unica all'interno del nostro istituto, che è composto di otto plessi, a avere l'orario settimanale che comprendeva le lezioni il sabato mattina. Quindi è stato fatto un sondaggio presso le famiglie, dopo aver valutato insieme alle amministrazioni comunali quello che poteva essere, diciamo, la percorribilità o meno di questo tipo di percorso e abbiamo da questo questionario, abbiamo visto da questo sondaggio, che c'è un grande gradimento da parte delle famiglie avere un orario organizzato anziché su sei giorni settimanali, su cinque giorni settimanali. Quindi se tutto andrà come deve andare e se troveremo supporto anche in quello che sono i servizi di trasporto offerti dal territorio e quindi servizi dall'ATM che serve il nostro territorio insieme in collaborazione con i servizi di scuola bus comunale offerti dai nostri comuni, se riusciremo a mettere in piedi tutto questo, il prossimo anno la scuola secondaria di primo grado rimarrà chiusa il sabato mattina e l'orario delle lezioni si articolerà dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14 circa. Un'altra novità è la mensa che può servire anche agli alunni che fanno un tempo ridotto. Sì, sempre per venire incontro alle esigenze delle famiglie, il servizio mensa, organizzato sempre dall'ente locale, può essere offerto anche a quegli alunni che non frequentano le lezioni del pomeriggio, perché il pomeriggio la scuola offre la possibilità a tutti gli alunni che sono iscritti nell'orario diciamo curricolare, per usare una terminologia molto specialistica della mattina, sono aperti dei laboratori pomeridiani facoltativi, a cui cioè i ragazzi possono iscriversi oppure meno e questi laboratori vengono organizzati nel primo pomeriggio fino alle 16 del pomeriggio per due giorni alla settimana, il martedì e il giovedì. Per far sì che i ragazzi possano appunto partecipare a questi laboratori, anche perché spesso abitano abbastanza distante dalla scuola, il comune ha messo a disposizione il servizio mensa, che dura circa 40 minuti. Ora noi abbiamo manifestato insomma la necessità al comune di poter usufruire di questo servizio, di poter fare usufruire il servizio ai nostri ragazzi anche nei giorni in cui i laboratori non sono aperti, cioè anche il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Questo per dare loro la possibilità magari di mangiare a scuola e di poter tornare a casa in un orario anche avanzato del pomeriggio avendo già fatto pranzo e quindi avendo tutto poi il pomeriggio a disposizione per le loro attività e per lo studio. Ecco la mensa è un fiore all'occhiello della scuola visto che è proprio all'interno. Questo è anche un altro vantaggio del poter mangiare in mensa qua perché la cooperativa di servizi ha proprio la cucina qui all'interno dell'istituto Garibaldi e questo è un grande vantaggio perché chiaramente i pasti vengono preparati e consumati in un tempo molto breve. Oltretutto insomma la mensa è ben organizzata e controllata sia da un punto di vista del tipo di cibo e dunque da un punto di vista proprio di scienza della nutrizione ma anche da un punto di vista igienico-sanitario e devo dire la verità i genitori e i ragazzi sono molto contenti del servizio che finora viene offerto qui dalla mensa della scuola Garibaldi. Possibilità dal nuovo anno anche di avere il tempo prolungato. Sì il tempo prolungato sempre alla scuola secondaria di primo grado è un po' una novità. Una novità nel senso che in realtà in questa scuola c'è sempre stata una grande tradizione di tempo prolungato. Poi nel corso degli ultimi anni come tutti ben sappiamo ci sono state varie riforme della scuola che hanno portato anche a dei cambiamenti radicali anche nell'organizzazione del tempo scuola e quindi anche il tempo prolungato man mano è stato sottoposto a questi cambiamenti e diciamo che negli ultimi due anni non aveva più avuto rispondenza da parte di come necessità insomma espressa dall'utenza. Invece sempre da un'indagine che è stata svolta presso le famiglie e degli alunni che frequentano la scuola primaria, le ultime classi della scuola primaria, sembra che i genitori invece gradirebbero questa nuova organizzazione del tempo prolungato che prevede anziché 30 ore settimanali che sono le ore del curriculum ordinario in cui sono organizzate tutte le scuole medie di tutta Italia, prevede la possibilità di stare a scuola 6 ore in più alla settimana cioè 30 più 6 ore, dunque 36. Queste 36 6 ore verrebbero organizzate secondo un orario della mattina che è esattamente identico a quello degli alunni che organizzano, che lavorano nella scuola nel tempo ordinario e in più hanno questa la possibilità di permanere a scuola per tre pomeriggi alla settimana sempre con il servizio mensa in cui faranno approfondimento di materie linguistiche e di materie scientifico-matematiche. In particolare saranno l'insegnante di matematica e l'insegnante di italiano che permaneranno a scuola con i ragazzi aiutandoli anche nell'esercitazione scritta soprattutto per cui i ragazzi poi torneranno a casa e avranno da fare soltanto i compiti orali, perlomeno per quello che riguarda in modo particolare l'italiano e la matematica che si sa sono le due materie che più delle altre insomma che chiedono un impegno di tipo scritto. Dunque esercitazioni, lavori di gruppo, una didattica più laboratoriale fatta su tempi più distesi è questo insomma che noi vorremmo offrire con il nuovo tempo prolungato. E poi ci sono appunto i laboratori il pomeriggio? Sì, come dicevo prima il martedì e il giovedì c'è una tradizione in questa scuola di scuola aperta proprio a laboratori che noi chiamiamo opzionali e quindi che sono facoltativi, la cui scelta la partecipazione è facoltativa da parte dei ragazzi. All'inizio dell'anno viene fatta una proposta di laboratori che sono prevalentemente laboratori di tipo operativo, di tipo creativo. Dunque si parla del laboratorio di musica con il coro, il laboratorio di pittura, il laboratorio di teatro, il laboratorio quest'anno abbiamo un laboratorio molto simpatico di scacchi ed enigmistica. Ecco, laboratori cioè che cercano di approfondire in una maniera anche diversa operativa, ludica spesso, quelle che sono anche delle discipline riconducibili alle discipline della mattina tradizionali. Questi laboratori sono aperti il martedì e il giovedì e la possibilità anche per i ragazzi che il prossimo anno frequenteranno il tempo prolungato nei pomeriggi del lunedì, mercoledì e venerdì di poter partecipare ulteriormente anche a questi laboratori opzionali. E questo darà la possibilità alle famiglie di avere anche il fatto di poter tenere appunto i ragazzi a scuola per tutta la settimana, tutti i pomeriggi della settimana, perché frequentando il tempo prolungato e frequentando i laboratori opzionali si avrà la possibilità di stare da lunedì al venerdì tutti i pomeriggi fino circa alle 16 del pomeriggio a scuola, serviti anche dal servizio mensa. Altra novità, lo psicologo. Lo psicologo diciamo che non è una novità, è un'attività che già da alcuni anni qui presso la scuola secondaria è stata attivata. È un progetto che prevede la consulenza, l'apertura di uno sportello di consulenza psicologica per gli alunni e anche per gli insegnanti e anche per le famiglie. Sicuramente il disagio è in un'età anche un po' particolare come quella della preadolescenza, insomma l'età in cui i ragazzi frequentano la scuola secondaria di primo grado. Ecco, la presenza di un operatore specializzato, di un professionista che può, senza sicuramente avere delle magie da fare, ma può dare delle risposte, può dare degli indirizzi, può suscitare a volte anche la necessità di un approfondimento. Ecco, noi crediamo che in questo periodo proprio di disagio particolare dovuto anche all'età sia un grande supporto che da un punto di vista educativo possiamo avere, insomma, sia noi come operatori della scuola ma soprattutto anche i ragazzi nella loro individualità. Ecco, ritornando alla domanda, le famiglie si chiedono su quale sezione mandare il proprio figlio, questo non può essere scelta. Allora, diciamo che l'organizzazione e la formazione delle classi è un momento molto delicato perché noi, per esempio, qui alla scuola secondaria abbiamo attualmente quattro sezioni. Perché una scuola funzioni? Perché l'offerta formativa e quindi l'apprendimento dei ragazzi sia facilitato al massimo? Occorre che le classi siano formate in modo omogeneo fra di loro ed in modo eterogeneo al loro interno. Quindi in tutto il lavoro di continuità educativa e didattica che viene svolto anche con gli insegnanti della scuola primaria è importantissimo tener conto di fattori e di indicatori che appunto ci provengono dalla conoscenza del bambino e dall'accompagnarlo appunto nella sua crescita. Quindi quando andiamo a formare le classi i criteri che devono essere usati devono essere rispondenti a queste esigenze cioè di formare delle classi per cui per stili cognitivi, per modalità relazionali, per anche livelli di apprendimento raggiunti dai singoli alunni queste classi per differenze di sesso anche no? Ecco perché noi crediamo fortemente che le diversità siano un arricchimento e quindi trovarsi a lavorare in classi assolutamente omogenee non suscita motivazione all'apprendimento ma anzi è un deterrente mentre invece trovarsi a lavorare in classi in cui ci sono tante diversità questo è un grande arricchimento per i ragazzi, oltretutto si fanno classi più equilibrate quindi questo vi fa capire come la scelta di una sezione o di un'altra sia alla fine ininfluente anche perché l'offerta formativa è unica, le modalità in cui si esplica sono le stesse noi lavoriamo con un'unica unità di apprendimento, con uniche modalità e quindi quello che vi hanno offerto in una sezione o nell'altra è praticamente la stessa cosa Ci sarà una sezione di spagnolo e tre di francese, per quale motivo? Per il fatto che la seconda lingua comunitaria che nell'ambito dell'organizzazione oraria della settimana influisce su due ore settimanali sulle 30 complessive viene assegnata alle singole scuole secondo delle disponibilità di organico dei docenti di seconda lingua comunitaria La nostra scuola ha un insegnante di ruolo che svolge appunto lezione su nove classi avendo noi 12 classi rimangono tre classi che invece possono essere assegnate ad un'altra lingua comunitaria in questo caso allo spagnolo che ahimè proprio perché non è ricoperto a questa cattedra da un insegnante di ruolo purtroppo ci troviamo nella necessità di doverla cambiare a volte anche anno dopo anno cambia insegnante proprio perché l'insegnante non è appunto nell'organico di ruolo quindi anche la scelta della seconda lingua noi chiediamo una preferenza alle famiglie lo chiediamo anche già nell'iscrizione online che viene fatta presso al ministero però questa preferenza non deve essere poi vincolante per i motivi che dicevo prima nella formazione delle classi cioè ci sono altri i criteri e le cose importanti per far stare bene i bambini insieme cioè le notizie che ci vengono date dalle maestre il fatto anche che due bambini vogliano frequentare nella stessa classe ecco queste secondo noi sono notizie ben più importanti e preferenze che devono avere diciamo la priorità piuttosto sulla scelta della seconda lingua comunitaria ecco la scuola media farà da trampolino anche per la scuola superiore e quindi i genitori si possono rapportare anche con i professori e appunto con la scuola media allora quella che l'attività di orientamento che normalmente viene fatta nella nostra scuola e in tutte le scuole insomma secondarie diciamo che è proprio una cosa strutturata organizzata per cui i ragazzi vengono accompagnati nella scelta della scuola secondaria che è un momento molto delicato per il loro futuro e appunto proprio come trampolino di lancia come diceva lei poi per la loro vita futura quindi noi accompagniamo i ragazzi aprendo spesso la nostra scuola alle proposte che ci vengono dalle scuole secondarie superiori del territorio e appunto accompagnando famiglie e alunni nella modalità migliore per loro per fare questa scelta quest'anno li accompagniamo anche nel momento dell'iscrizione in modo anche più forte sempre supportandole anche con l'iscrizione online perché anche qui noi abbiamo innanzitutto dato ai ragazzi di terza tutti i codici meccanografici delle scuole secondarie di secondo grado della nostra provincia del nostro territorio questo perché c'è possibilità di accedere anche tramite scuola in chiaro cioè tramite sempre il sito del ministero a questi codici meccanografici ma per essere sicuri proprio perché le scuole superiori hanno molteplici indirizzi nei loro ordinamenti di studio di aver dato l'indicazione di prendere l'indicazione corretta noi abbiamo supportato i ragazzi in questo cammino poi laddove non ci fosse la possibilità di potersi iscrivere online perché magari non si ha il computer o perché si vuole un ulteriore supporto dalla scuola in subordine perché prima dovrebbero recarsi alle scuole secondarie in cui hanno scelto di iscriversi però in subordine anche noi come scuola secondaria di primo grado possiamo aiutare i nostri alunni di terza in questo momento delicato dell'iscrizione dunque insomma le accompagniamo proprio fino all'ultimo e poi anche in una fase successiva perché l'orientamento poi continua anche in un rapporto di collaborazione con gli insegnanti della scuola secondaria in cui loro poi si iscriveranno per presentarli e aiutarli in quel momento dell'accoglienza quindi non ci rimane che augurare agli alunni un buon proseguimento e una buona scelta per chi dovrà scegliere appunto la scuola secondaria di secondo grado sicuramente un augurio grande perché appunto è un momento importantissimo per la loro vita su cui spesso si gioca il loro futuro